ciao a tutti chi dice che kenny roberts junior non meriti il titolo della 500 conquistato nel 2000 con la suzuki è fuori strada quell'anno il figlio del marziano fu il più costante vinse quattro gran premi e nessuno fece meglio di lui rossi con la onda di duan e biaggi conquistarono due gran premi a testa come barros tre mccoy e però è vero che fu una stagione apertissima con un mucchio di protagonisti nella top class vinse rogale anche capirossi con la onda del timpons abbe e cribiglie vent'anni fa esatti otto vincitori diversi in 16 gran premi una competitività rara una grande stagione senza dimenticare naturalmente il titolo di roberto locatelli con l'apriglia della classe 125 che roba allora alla prima gara del cinquecento rossi che era rucchi fece il giro più veloce e poi cadde di cadute ne fece tante come sua tradizione al primo anno in una categoria anche lui in un certo senso come fa oggi marquez prendeva le misure alla sua nuova moto e il gran premio di italia al mugello prova numero 6 del 2000 ve la ricorderete in tanti con la grande battaglia tra i nostri tre piloti più forti biaggi rossi e capirossi alla fine la caduta di valentino quella di biaggi e la vittoria di capirossi che fu la prima in cinquecento per un pilota italiano al mugello per assistere alla replica di quella bellissima battaglia 3 dovremmo attendere l'ultima prova in australia philippa island un bellissimo gran premio sulla pista la più magica di tutte in riva l'oceano con il successo di biaggi davanti a capirossi e rossi tutti in 29 centesimi di secondo io ricordo in particolare il gran premio del giappone con la vittoria di abbe indimenticabile nori abbe il gran premio di spagna con la caduta di max nel giro di allineamento e il primo podio di valentino poi la prima vittoria del dottore nella nona prova gran premio di gran bretagna a donington quando l'aprilia bicilindrica con mc williams fu terza e a lungo addirittura in testa alla gara e poi naturalmente il dominio di max biaggi a brnò la sua brnò con paul vittoria e giro veloce le ultime tre gare furono fantastiche a rio biaggi si prende la paul rossi vince la gara e kenny junior si laurea aritmeticamente campione del mondo poi dopo si va a moteghi max ancora in paul rossi col giro veloce ma rovers li beffa tutti e due e alla fine appunto la splendida australia perché vi racconto del 2000 intanto perché sono passati giusto vent'anni e poi volevo ricordare l'impresa dei due rovers perché kenny padre kenny figlio sono gli unici due padre figlio capaci di vincere un titolo mondiale a testa nel motociclismo nessun altro si è riuscito e poi naturalmente volevo rimettere al centro quel bel confronto diretto tra i nostri tre piloti storici fenomenali della 500 fa specie oggi pensare che biaggi ha chiuso nel 2012 ed è team manager che capirossi appeso il casco al chiodo addirittura nel 2011 e adesso è un alto funzionario della dorna e invece valentino ancora lì con la stessa voglia in fondo è della stessa generazione perché rossi e del 79 viaggi del 71 capirossi del 73 ma il dottore resiste e questa è la sua venticinquesima stagione di gare ciao a tutti a tutti